E saluto ragazzi, bentornati a questa nuovissima live Perché noi oggi faremo la live di Pasqua Come vedete ho scioppato la skin alla trella Questa qui bellissima Noi adesso iniziamo, facciamo le partite, mettiamo coppie E noi ho scioppato anche questo belletto Eccolo Bellissimo La live di Pasqua Che bello oggi è Pasqua, oggi abbiamo mangiato tutti l'ovo Kinder Fatemelo sapere nei commenti se l'avete mangiato io sì Ho mangiato uno gigante Ma veramente era enorme Era enorme come la testa mia No guardate che cringe No guarda aspettate No mette la pizza, non nella bocca Vabbè, non mette la pizza nella bocca Ma nel collo Ah non ve l'ho detto ma siamo insieme al mio amico Alessio Ciao ragazzi Ecco Noi intanto non facciamo sto live perché oggi è Pasqua Pasqua, Pasqua, Pasqua Pasqua è la mia terza preferita Festa preferita perché è la prima al compleanno La seconda è la prima Ah ragazzi Sì Ah iscrivetevi al canale Lasciate un bel like per questo Ah vi raccomando ragazzi Grazie mille per i 31 iscritti Vi amo Grazie Noi per questo video vorrei arrivare No, facciamo 15 like No dato che No al nascondino siamo arrivati a 17 A questo video 15 like Noi dove ci si butta? Parco Parco No parco Ah ragazzi facciamo Ah ragazzi Premete una campanella C'ho due iscritti Eh? Non ho mai sentito perché Grazie iscrivetevi al mio canale Come ti chiami? Perché l'hai fatto nuova Non l'avevi disinstallato No l'ho installato Ah l'hai rifatto No allora In che io vado nella casa gialla Perché sono gialla Perché non ha nato Già Questa skin è palesemente Cica di fare una set freddy È uguale Ai ragazzi guardati Ok Ok Mi ha fatto Style Ombre Ale scusa che vengo Nella tua casa Però lo sai Piero La casa gialla No c'è mia Però è No no Sì ti pidi quella cassa Sovra è questa Eh Madonna Ok Allora Ho il pompa verde Del nonno Bellissimo C'è brusco Vedete di che Oh ma mi puoi prendere Stemulite Mi sono bagate Nel nullo Non c'è ne bagate Terme hai C'è uno qua Eccolo Eeeh Via No Mi ha chiuto No 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 Ragazzi Questa partita Non esisteta Vero Ale Non esiste Questa partita Ok Pitch no scoop No gli fanno scoop Ma che ti chiamo Avevi Eh Che non avevi Pombra bianca Pistoria bianca No No Abbandoniamo No Devo cambiare Stile No Cos'almeno Facciamo tutti Gli stili In ordine No Adesso Non so Che stile Ci dovrebbe Essere Giallo Poi un altro Ah Te tieni Preparati Emanuele Di Marino Ha scritto Ma salve Ma salva Anca lei Signore Signore Di Marino Ci sta guardando Ma salva Anca lei Sì Odi una live Di Pasqua Eh Mi sta guardando Se vuoi Poi anche Connetete Con un altro Telefono Tipo Vedete Se vuoi Eh Line Fatti Quindi Allora Io No Cambio Skin Eh Skin Celeste C'è il celeste Capita il celeste Quando sei Bannato Su fortnite Povero joystick L'avresti pagato 20 e 500 euro No scherzo Emanuele ha scritto Anche Oggi Guardo la sua Live La tua Vorresti dire Grazie L'hai guardata Anche la scorsa Ma oggi Fanno una live Tipo di 20 minuti Così Non so quanto Così almeno Perché visto che Oggi è Pasqua Ha scritto Ma salve E oggi Guardo la tua La sua Live Intendeva la tua Live Quando hai detto Qua Perché io Ci ho lasciata Alla mia destra Eh Se vuoi Può guardare Anche te Non so Sul telefono Sì No raga Il mio amico Sta mangiando Perché sono Le otto e mezza Emanuele Ha scritto Ha scritto 333333 Il numero Di Non lo so Il numero Del diavolo Del figlio Di Non so Chi Bello Sto balletto Quanto lo amo Sta Sta No Non lo fate In tempo Del caccio Dove andiamo Lago 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 Please Lago Lago Bellissimo Non so perché Sono pazzo Perché sono felicissimo Di andare Perché Pasqua Oggi A Pasqua Ogni dolce Vale A cadeva Carnevale Ogni scherzo La Pasqua Scrivi il mio nome Su youtube Dovesti vedere No perché Ancora Tutto Non l'ho messo Dovresti vedere Tra Ecco Trasmissione Vedi Trasmissione Perché Non vedi Emanuele Emanuele Di marino Ho messaggiato Un numero Della live Di verbi Il numero È Grazie Ma No Il numero Il numero Di Zerbian 3 371 4 2 8 0 18 2 Che Ragazzi Ci proviamo A scrivere Sul Telefono Alessio Chiama Il numero 37 1 4 2 8 0 18 2 Vediamo Se risponde Zerbian Mi vado sotto A bella Lezzi Guarda Guarda No 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 Perché No No Perché No Ma Stai Scrivendo No Hai detto Una Beste Ma Che Sta Scrivendo Che Lato A bella Bro Allora Emanuele Se ci Ti guardi Fai Una Faccina Sorridente Che La Puoi Fare Non Vedo Con Uno Anche Da Me Lo Giochi Lati Due Allora Intendo Che È Uno Che Guarda La Live Di Zerbian Emanuele Vieni Su Fortress No Non Venire La Vedo No Zitto C'è Uno Ammazzato Uno Un altro Dov'è Mari 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 Morto Trova Poter Di Sì O De Blu C'è O De Blu Marta Bli No Aspetta Quattro No Stanno Fetando No Ma Non è Possibile Come Sopra No Vabbè Adesso Ma Un aiuto C'è Ma Dove sono Non Trovo Emanuele E Ora Io Nei Contatti Gino Guarda Vai Bess Non So Vabbè Io Sento Persone E Uno Vedo E Eccolo Oh Ci sono Non ho capito Dove è sto pazzo No Mario Morto Cosa Non ho capito È lager È lager Raga No C'è Tivita Ragazzi Scrivete Scrivete Hashtag Raga Non ho capito Ragazzi Madonna Che mira Che oggi Raga No Mi dai Colpi Pompa No Mi dai Colpi Pompa Ti prego Ti prego Ce l'ho No Ce l'ho 5 Fizz Hai Quando Che Non Mi dai Non mi dai Colpi Pompa Il forno Ce l'ho 5 E' qua E' scritto Il commento No Non lo Vi fa Vedere E' qua Madonna Che Mi No Ti 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 No Grande Restami Cio Le Banno Sardino Che Stulo No Le Mi lasci No Io Un figlio Alle Ti Ti Mi No Raci Colpi Pomp Un po P Thank you No Le no no allora alessio balli ciao manu ma l'arrivo a vedere hacker il gruppo la prima grande sto fare bene ti do ti volevo da questo grazie c'è un amico no fanno arrivare fanno uno spazio dov'è non dov'è noi lo stanzo a domenica dall'ottosto a casa c'è cosa bellissima ale come si è messo col pr non so vale così messa col pr come si è messo alle valli no divi fatti c'è l'hai a terra uno grande bro ma non c'è uno spazio spazio che c'è non lo tieni lo tieni no 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 mi senti non mi salietta a me come se mi salietta non come altro dovevano lasci pizzo no vabbè non lo lasci vabbè c'era la mitraglietta non ce l'ho ma non guarda che c'è un'altra cosa c'è non ciò non ciò non ciò c'è la mitraglietta ho vista non vale sai che quello che ho dov'è in a blu 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 siiii no fai onco no scherzo no 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 c'è un signore di detto qua no come servire la mitra ma qua c'è il legno no aspetta senti la live aspetta ragazzi sentito questo dai no ma sto trovo pistoline non è possibile no non è l'unica cosa bella che c'è l'rb no 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 mi salietta no dove dove no vabbè adesso c'è la mitraglietta c'è l'rbluio eh no è bellissimo avere ti do la mitraglietta c'è un d'alerte oh un tattico blu che bello se tu mi dai l'assalto io ti do questa ma c'è lì davanti l'assalto ah vabbè ci do l'idraglietta bianca vai troppo ma dove ma chi è che sto scrivendo poi nella chat vediamo un po' ma nessuno ma dove si si perché ma salve intendo che uno che guarda la live di gerbi e ora fa mano è un sidereache diceva non so che un sidereache l'elicottero è un sidereache anche io spazi viola anch'io no lei si guarda adesso guarda zitto zitto l'elicottero lì e manu mi sparano nella collina non è la collina non è l'elicottero non è l'elicottero non è l'elicottero non è l'elicottero no 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 vabbè cambio stile adesso vado a cambiare stile senti il mio amico quanto gli piacciono le live ma adesso vediamo come cambia stile il verde verde pronto il balletto del joystick ma non ha chiesto perché l'hai messa verde perché faccio tutti i stili non mi preferite quella gialla cioè il mio colore preferito il rosso però quella gialla di più perché sembra come si chiama sembra cica ma non lo senti che è vetro vetro guarda lo senti guarda vetro quando pulisci il vetro guarda senti il live sentito si ripeto guarda lo senti il vetro è figo vero? troppo giro però sta che se non da noi a tutti gli altri scusate ragazzi io ragazzi sono una persona che sposa una persona grande si chiama O e finisce con la A è una della scuola ha una cosa per lei con l'ombretta e faccio quella cosa che fanno tutti i grandi tutti i grandi tutti i grandi la casa piccola mia avete presente le pate basse le pate basse poi per la donna si non è parlare di cose sem i semi belle nooo i semi belli comunque andiamo a capo a mano no andiamo a mida no andiamo a mida no vieni a ci spuglia perchè ci spuglia? io se vieni perchè lì c'ha a mida no non c'è c'è vabbè non c'è ammita lì e commette che c'è ammita adesso puoi staccare la line che c'è il volume a brutto e non si sente è vero vai lo staccato allora non so dove c'è un tizio c'è ammita si cari a tonne di coppia sì c'è milano e dentro cazzo di edita si evita avrà fuori uno mi ha fatto un timore di me non pensavo che c'era mila mila scuola sempre di dove sa io ma chi non ho fatto che c'eva il rosso no dove c'è mila sento la sensazione ma quasi un sito no lo volevo io non c'è uno scambio che hanno lo scambio all'ora riprendi a un giorno dipendato non aveva vendito lo scarti dallo scar no è enorme più tardi vabbè da tanto la tua perché ma ottimo era sblocato ombre e bella però dove mi da non so vai gioveggio voglio 15 di vita e lo facciamo più scemo di verità che esiste maria non è vero scherzo più scemo di me non esiste nessuna armata su cazzo non è la mamma di mida che gli faccio un culo della madonna no aspetta c'era ale c'era uno c'era una skin che è una skin che usavi testato della stagione piace quella dell'ospedale viola che adesso lei non c'è più perché no perché lei aveva mida l'aveva utito lei mi dava cercando mi da no e la legge non Cristo santo no no chi è che non aveva migliori stagnozzi dove c'è uno aspetta e nel tavolo vero no no vabbè ammita lei no 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 vabbè io ragazzi 18 di vita ma ho sentito ragazzi lo so che non vuoi dire che cazzo cazzo no scusate che possono dire le parloci ormai siamo già grandi cell ma poi anche la figosta dai la facciamo no gelato no perché le cose se sui quelle lì non si possono dire però si sia lì adesso ragazzi adesso sono grandi si pezzi con me sta dicendo che il suo personaggio preferito della marvel e spider man ho messo la natra e la rossa mutus non è vero mutus è una nonna un non rifanno quella cosa che fanno un nipote eh scusa non possono fare un figlio che gli ci vuole è incinta incinti no ma non lo sai una donna scusate ragazzi sapete che è una donna di 105 anni e hanno fatto una cosa ha fatto un figlio vecchio non so hanno fatto un figlio vecchio la presente è il maestro vu dei ninjago è presente presente in loro secolo lui è nato con la barba con la barba con la barba con sto ca con sto ca GA 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 CA MA MA LA LEVOSA Bon è leviosa è leviosa pa hill levioso non è leviosa are leviosa æ eg milosa a ay lemosa ma guardiamo le sguagli rea ragazzi super ce tu devi vuoi dire parco al capo 앞 vabbè chi ce n'è c'è il nostro esempio non avendo le cazzo nella volta e la madonna anche i genitori anche i miei genitori ragazzi sono un sessuale o sennò perché ho detto scritto non vuol dire che sei un maschio è che se non è finita video da me il dobbio in aria bilionare che bello e la diamo l'agenzia alla de agenzia ma c'è mano lì mi sono affezionato alla cenzia infatti anch'io allora la sanzia mi ha detto ma io ok prego non mi forse quel posta sorella sono morta 10 di lì ho detto l'ho detto sono morto dai ti prego no abbiamo bisogno me la giuda decidi dito sono cascato perché non c'è mila io trovo sempre mi da dove siamo qui non deve andare nei punti lontani c'era che non c'è uno scignoccio che ha preso l'arma no c'è uno scignoccio c'è un scignoccio c'è un scignoccio c'è un tagliatelle di non so chi sono lento perché miseria alle lì lì nel cesso qui copriti dietro ho 32 di vita copriti dietro baricati lì no vabbè quanti così bene che culo medichitte ora mi sede il cambio ad esempio da colpi che c'è la 30 stai sito c'è la colpi mitra neto c'è la 30 84 è davvero tanto chini prince grazie madonna sti scagnozzi hanno rotto le pupille non le pupalle c'è lì da dove 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 maria di filipi vieni ma chi è che sto piccola da mezz'ora d'occa l'altro era nascosto come un muro vabbè mettiamo più parti con questa rossa che è durata poco molti ma non si fatti a chi no die pasqua si fa dopo la live mani negati che qui faremo l'ultima partita questa è l'ultima forza ti posso dire cosa cosa ragazzi altrimenti quando mi vabbè mancate che vabbia letto e 45 ma si vabbè no è vero sono manca un quarto al 9 no ma il mio abbandito poteva registrare non è finito ciao no vabbè questo non è finito e samuele un amico di alessio ciao io non per il silo allora a yt grande bro bella samu non mi dice zero spettatori ma invece mi sta guardando samu non lo so samu scrivi bella bro non stavo scrivi bella bro non lo so ma io posso guardare live non posso giocare dopo no ok ten 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 poto non lo andiamo chiedi 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 ragazzi no che faccio no no da riproviamo la cosa mia la cosa mia tutto l'ho detto prima io allora la rifiutora sono mio perché prendo la roma di unida se tu trovi un'arma blu o viola bene no no grazie mai dato il consiglio per la challenge che farò domani domani però sociali che se trovo l'arma bianca sono anch'io non faccio non chiedono ma domani c'è anche lui che tipo se trovo un'arma bianca all'inizio devo usare solo armi bianche non adesso vabbè no no vabbè non hanno già pigliata o da me da me guarda un mondo già allora non posso giocare vabbè della boschi ebbe ok ma non c'è l'area che armoio la jump armi più forte ben no ma sono piccolate non è possibile zitto vai vampa vampa meglio di niente non mi rispettino r c'ha bella a bella bro c'è mi da un mondo bella è ucciso non c'è mi da è un piccone che t'ha vista se scemo di me morì da dove esso dietro ma chi è mi da o e vg skillet c'è la madonna quantità in mano dura di vita certo c'è il cibo tutti i miei nostri colpi un aspetto trovo ma lì nemico mi dà mi dà c'è gente c'è uno c'è una quanta vita mi dà 400 no no non avevo colpi e niente ragazzi questa live finisce quando ci vedremo domani con un altro noi ci vedremo domani con un altro video noi ci vediamo con un altro video con alessio ovviamente noi ci vediamo è tutto lasciate like a questa live noi ci vedremo domani ciao